Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti e adesso perfino sul Corriere della Sera, rotocalco filo liberale e atlantista, il rotocalco meneghino par excellence, si accorgono che l'Iran non deve essere preso sotto gamba, come usa dire colloquialmente. Esce infatti in questi giorni un interessante articolo sul Corriere della Sera in cui si spiegano le ragioni per cui l'Iran non deve essere sottovalutato e in effetti è proprio così, l'Iran è una potenza economica, militare, nucleare anche, non dimentichiamolo. E perché l'Iran non deve essere sottovalutato? Anzitutto perché ha una sua capacità di resistere e di essere autonomo rispetto alle mire espansionistiche dell'Occidente, anzi dell'Occidente liberale atlantista, ma poi anche in ragione del fatto che l'Iran, non dimentichiamolo, è appoggiato in toto dalla Russia di Putin e dalla Cina di Xi Jinping. Infatti l'Iran fa parte di quella costellazione di stati disallineati al nuovo ordine mondiale washingtoniano che sempre più stanno facendo sistema, spinti all'unione soprattutto dall'esigenza di cooperare per resistere all'imperialismo di Washington, quell'imperialismo che vorrebbe unificare il mondo sotto il segno del dominio americano. Ebbene l'Iran, è bene saperlo, resiste ed è supportato nella sua resistenza dalla Russia e dalla Cina. Per questo non sarà facile per la civiltà dell'hamburger piegare come pure vorrebbe l'Iran.